Contrada a Pizzuta, versa in grave degrado, carcasse dei gatti, rifiute, strade pericolose. Storia di ordinario degrado tra via Teofano e via Paolo Ria, incontrata a Pizzuta con carcasse dei gatti abbandonate in vari punti, insieme a numerose sacche di immondizia sparse qua e là. Questa è la segnalazione di Michele Mangiafico, leader del Movimento Civico 4 e componente dei Fratelli d'Italia a Seracosa. Da oltre un anno di Michele Mangiafico i cittadini hanno ripetutamente contattato i vigili urbani senza mai ottenere interventi risolutivi. Nel frattempo si sono verificati episodi drammatici. Ad aprile una residente ha trovato e salvato quattro gattine appena nati ma non ha potuto fare nulla per la madre morta e abbandonata in un sacchetto. Ora la scena si ripete con una gatta morta e le sue cucciole decedute accanto, simbolo di un fallimento morale e amministrativo. La zona della Pezzuta, in passato oggetto di importanti progetti edilizie, presenta oggi tutte le caratteristiche di una periferia lontana dal centro e dall'istituzione. Il problema non riguarda solo le discariche a cielo aperto. Alla fine di via Teofane spiega Mangiafico un pericoloso restringimento della carreggiata unito a profonde bughe rende la viabilità rischiosa mentre il piazzale di via Cannizzaro si è trasformato in una discarica permanente con tracce di olio sull'asfalto, residuo della sua vecchia funzione come area di scambio per i mezzi di trasporto rifiuti. Anche la vegetazione è fuori controllo. Una palma cresciuta selvaggiamente ostruisce la strada alla fine di via Cannizzaro mettendo in pericolo gli automobilisti. La mancanza di illuminazione amplifica la percezione dell'assenza di controlli, trasformandola a Pizzuta in un luogo di ritrovo per gruppi di giovani in cui i schiamazzi disturbano la quesia pubblica fino a tardanotte. Com'è possibile che un quartiere come Contrada Pizzuta, che a un tempo prometteva di essere un'area residenziale di qualità, sia stato così trascurato? Perché l'amministrazione comunale ha abbandonato una zona che dovrebbe essere un fiore all'occhiello della città, data la sua vicinanza appunto di interessi storici e archeologici? Perché i residenti devono convivere con animali morti per strada, bughe, rifiuti e degrado? Si chiede provocatoriamente Mangiafigo. Circo 4 chiede all'amministrazione comunale di intervenire immediatamente ponendo fine a questo stato di abbandono e restituendo dignità a Contrada Pizzuta. I cittadini sono stanchi di aspettare e di vedere quotidianamente la propria zona trasformarsi in un simbolo di degrado, conclude Mangiafigo. È ora che le istituzioni facciano il loro dovere.